Si allarga la protesta in merito ai disservizi dell'ufficio anagrafe di via Claudio d'Ostia. Anche il consigliere del decimo municipio, Andrea Bozzi, interviene sulla vicenda. La sede è al collasso, dichiara. Gli appuntamenti per una carta di identità vengono fissati ad agosto, manca il personale e ci sono utenti che aggradiscono gli impiegati. Una specie di trincea dovuta anche allo spostamento di tre dipendenti in altre sedi. La chiusura dell'ufficio bancario ha fatto sì che agli esportelli si debba fare cassa allungando i tempi di smaltimento delle pratiche. Il problema riguarda tutti i municipi di Roma, ma da quanto mi hanno riferito, molti romani si recano in via Claudio indirizzati dal sistema Tu Passi perché ci sarebbero meno file. Purtroppo non è così. Ho chiesto che il problema venga affrontato immediatamente in Commissione Controllo e Garanzia per capire come stanno le cose e per chiedere eventuali contromisure alla Presidente del Decimo Municipio Giuliana Di Pillo e alla Sindaca Virginia Raggi che forse non ha ben chiara la gravità della situazione, ha concluso Bozzi.